Oh, e anche voi avete deciso di rendere un giorno normalissimo, un giorno speciale, solo perché la Terra ha compiuto una rivoluzione, eh? E visto che inizia una nuova rivoluzione della Terra, avete deciso di rivoluzionare anche alcuni aspetti della vostra vita. Maledetti umani con le loro tradizioni e credenze farlocchi. Ma basta con tutto questo anichilismo. Ok, va bene, lo avete fatto di nuovo. Avete creato dei buoni propositi per l'anno nuovo. Ed è proprio qui che nasce questo video, per non farvi fallire di nuovo miseramente. Infatti la strategia e il management sono degli ambiti economici che studiano come l'impresa può creare degli obiettivi rilevanti per se stessa e come poterli raggiungere efficacemente. Perché alla fine cosa sono i buoni propositi se non degli obiettivi per la vita? Ed è per questo che utilizzeremo delle pratiche manageriali per creare dei buoni propositi e per poterli perseguire al meglio. Perché molto spesso il fallimento dei buoni propositi avviene dalla loro creazione e non dalla loro esecuzione. Innanzitutto dobbiamo farci due domande fondamentali. E cioè, dove siamo e dove vogliamo andare? È cruciale saper rispondere a queste due domande per poter creare dei buoni propositi efficaci. Se sappiamo dove siamo ma non sappiamo dove vogliamo andare vuol dire che creeremo degli obiettivi a caso e per questo difficilmente raggiungibili. Invece al contrario, se sappiamo dove vogliamo andare ma non sappiamo dove siamo adesso beh, non abbiamo delle basi solide per poter perseguire il nostro percorso di crescita. E qui, signori, arriva il primo tasso dolente. Infatti in una buona azienda la formulazione di strategie e obiettivi non avviene una volta l'anno magari con la redazione del budget a fine anno. In realtà è un processo costante e in continuo mutamento. Ed è per questo che secondo me è stupida la pratica dei buoni propositi all'inizio dell'anno. Perché sembra quasi che esista la presunzione che io riesca ad impormi una volta all'anno degli obiettivi e che riesca anche a raggiungerli così, d'amblè. E in realtà è tutto il contrario. È un processo lungo e faticoso che richiede sacrificio, buona volontà e capacità di programmazione. Tutte skill che non sono innate. Perciò il miglioramento di se stessi grazie a dei buoni propositi non nasce da un giorno all'altro. Tra l'altro, secondo alcuni articoli che vi lascio in descrizione se proprio dovete cambiare la vostra vita da un giorno all'altro gennaio è il periodo peggiore. In realtà sembra essere settembre il periodo più congeniale. Ma è meglio ribadirlo, con queste cose non si inizia da un giorno all'altro. Ok, torniamo a noi. Come facciamo a sapere dove siamo? Beh, in azienda si avviano tutta una serie di analisi interne ed esterne per capire come l'azienda interagisce con l'ambiente intorno a sé. Ma per noi poveri esseri umani? Beh, una domanda un po' banalotta potrebbe essere questa. Chiedimi se sono felice. Niente di più sbagliato, Giacomino. Perché è qui che il nostro cervello parte con tutta una serie di pippe mentali costruite con il solo scopo di ingannarci. Perché sì, il nostro cervello ci inganna continuamente. E a riguardo consiglio la visione della serie Netflix La Mente Svelata e capirete di cosa sto parlando. Ed è per questo che c'è qui WhatsApp Economy che vi consiglia di comprare un diario giornaliero. Lo so, sembra una soluzione molto da teenager, però fidatevi che funziona. Infatti possiamo usare questo diario per scrivere qualsiasi cosa che sia successa durante il giorno. Pensieri, emozioni, sentimenti, qualcosa che ci ha particolarmente colpito. Insomma, sta a voi riempire il diario, ma è fondamentale riempirlo ogni singolo giorno. Innanzitutto questo metodo può essere una valvola di sfogo ai vostri pensieri. Non so se vi è mai capitato che magari pensate di avere un problema enorme, poi lo raccontate ai vostri amici e in realtà non è così grave come voi lo stavate pensando. Scrivere e rileggere i vostri pensieri è molto utile a ridimensionare i vostri problemi e anche magari vi aiuta a rifletterci anche meglio. Ma non solo, infatti questa pratica ci aiuta anche a conoscerci meglio. Leggere cosa io provavo dopo un determinato evento mi rende più obiettivo con me stesso e mi aiuta a capirmi meglio. E conoscere meglio se stessi significa prendere delle decisioni migliori. Scrivere e leggere i nostri pensieri ci aiuta anche a capire dove stiamo sbagliando. E qui vi faccio un esempio. Ci siamo messi in testa che dobbiamo perdere un chilo in un mese. Alla fine del mese però vediamo che siamo riusciti a perdere solo 300 grammi e quindi subito la nostra testa va a ricordarsi di quel venerdì sera dove abbiamo preso quella pizza che ci ha distrutto la nostra dieta. Il nostro cervello sta eseguendo un processo di framing. Prende un singolo evento che ci ha colpito particolarmente e lo utilizza per interpretare la realtà. Anche se in realtà magari quella pizza non c'entra nulla col nostro fallimento della dieta. Infatti se andiamo a leggere il nostro diario magari scopriamo che è vero quel giorno che abbiamo preso quella pizza ci siamo sentiti un po' in colpo ma in realtà tutti gli altri 29 giorni non stavamo seguendo perfettamente la dieta perché magari ci scoraggiava e quindi ogni tanto scappava quel dolcetto di troppo. Oppure ancora magari la dieta la stavamo seguendo perfettamente e semplicemente il nostro obiettivo era troppo ambizioso. Insomma questo approccio ci aiuta molto di più a rispondere alla domanda dove siamo rispetto all'approccio di Giacomino. Seconda domanda dove vogliamo andare? Rispondere a questa domanda significa fare una scelta tra le nostre motivazioni e i nostri interessi e decidere quale è il più importante. Ma come scegliere? Una possibile risposta ce la può dare Victor Harold Vroom professore della Yale School of Management. Vroom ci dice che prima di intraprendere qualsiasi sforzo lavorativo un individuo si fa tre domande per capire se ne vale la pena impiegare del tempo per un determinato progetto. Vroom perdonami ma semplificherò un attimo la tua teoria. Noi siamo motivati a raggiungere un obiettivo per la sua ricompensa e il primo step del modello di Vroom è proprio questo cioè dare un valore alla ricompensa scaturita dal raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati. Se infatti ad esempio sarete più soddisfatti di voi stessi nel raggiungere una promozione al lavoro rispetto a quella di perdere 5 kg beh allora dovreste valutare l'ipotesi di impegnarvi molto di più al lavoro rispetto in palestra. Il secondo step è chiedersi quanto sia utile il nostro sforzo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Se infatti abbiamo deciso di ottenere una nuova promozione al lavoro ma sappiamo già che il nostro capo non apprezzerà tutti i nostri sforzi in queste otto ore di lavoro ogni giorno beh allora la promozione al lavoro non sarà un buon proposito da perseguire per quest'anno magari. Il terzo step è chiedersi che probabilità ho che al raggiungimento del risultato otterrò anche una ricompensa. Infatti il collegamento risultato-ricompensa non è scontato ed è per questo che parliamo di probabilità. In questa probabilità possono incidere sia variabili che possono dipendere da noi ma anche variabili di cui non abbiamo il controllo. Ad esempio abbiamo deciso di ottenere questa promozione al lavoro però nonostante ciò si vocifera in ufficio che alla fine dell'anno ci sia una ristrutturazione aziendale. Per questo potrebbe accadere che alla fine dell'anno nonostante il mio duro lavoro apprezzato anche dal capo questa promozione non avvenga a causa di questa ristrutturazione che alla fine non dipende da me. E quindi il raggiungimento del risultato non mi ha permesso di ottenere la ricompensa. Questo metodo di Vroom che io in realtà ho riassunto molto ci aiuta a capire quale tra le metà a disposizione sia la migliore per noi stessi e quindi a capire dove vogliamo andare. Ok ma scelta la destinazione come facciamo a raggiungerla? Ed è qui che entra in campo la costruzione dei buoni propositi. Perché come ho accennato anche prima molto spesso il nostro fallimento non è per causa nostra ma perché formuliamo dei buoni propositi sbagliati o cattivi o che si potrebbero formulare in maniera più efficace. Ed è per questo che utilizziamo delle pratiche manageriali per aiutarci a costruire dei buoni obiettivi. Che ci semplificheranno anche la vita una volta che dovremo eseguirli. L'economia ci dice che dobbiamo creare degli obiettivi SMART che non sta proprio per degli obiettivi intelligenti bensì SMART è un acronimo. Infatti dobbiamo seguire 5 caratteristiche per poter creare per l'azienda degli obiettivi rilevanti mentre per noi stessi per creare degli obiettivi efficaci che ci possono migliorare effettivamente la nostra vita. La S sta per Specific. Un buon obiettivo non deve essere troppo generico, ambiguo o preda di facili interpretazioni. Questo aspetto ci aiuta molto nella nostra motivazione e nei nostri comportamenti perché sappiamo precisamente dove vogliamo andare e ci aiuta anche in una fase successiva per capire dove stiamo nei nostri progressi per raggiungere quel determinato obiettivo. Ad esempio, un conto è dire quest'anno voglio iniziare a suonare il piano un altro è porsi l'obiettivo di saper suonare Vals for Debbie di Bill Evans al pianoforte oppure imporsi di seguire 30 lezioni di pianoforte in un anno. E a proposito di numeri un buon obiettivo deve essere anche measurable cioè misurabile se è possibile in maniera quantitativa e quindi con numeri percentuali e via dicendo. Questo aspetto non solo ci aiuta a creare un obiettivo più specifico ma ci aiuta anche a capire dove siamo infatti riusciremo a capire a che punto siamo nella nostra progressione del nostro obiettivo se dobbiamo cambiare qualcosa se siamo in ritardo, se siamo in anticipo ci dà un sacco di informazioni in più per capire a che punto siamo e eventualmente a intraprendere eventuali correzioni per cercare di raggiungere l'obiettivo prefissato. La terza lettera sta per attainable cioè un buon obiettivo deve essere raggiungibile e qui tocchiamo un altro tasto dolente infatti quando vedo i miei amici o dei conoscenti formulare i loro buoni propositi vedo sempre che tendono a spararla grossa come per dire vabbè se la dobbiamo fare facciamola in grande nulla di più sbagliato. Un buon obiettivo deve avere la giusta dose di realismo di facilità di esecuzione ma anche una certa quantità di sfida cercando di mettersi alla prova ed è proprio qui la parte difficile cercare di trovare il giusto equilibrio tra facilità di esecuzione e sfida e se non riusciamo a trovarlo questo equilibrio rischeremo di fallire con i nostri obiettivi. La terza caratteristica ci dà anche un altro consiglio e cioè che se abbiamo un obiettivo troppo difficile magari una buona strategia è quello di scomporlo in più obiettivi più semplici da affrontare uno alla volta ma che comunque ci porteranno al risultato finale. Gli obiettivi devono essere anche relevant e cioè rilevanti e qui ci colleghiamo alla teoria di Vroom e cioè che gli obiettivi devono essere allineati ai nostri interessi altrimenti saremo poco motivati per raggiungere quel determinato obiettivo. Ultima caratteristica anche questa molto importante ma che molte persone non considerano è che l'obiettivo deve essere time bound deve essere un po' come la musica pop cioè a scadenza. È fondamentale prefissare delle deadline delle tempistiche delle scadenze ben precise. Questo perché innanzitutto ci spinge a motivarci a concludere l'obiettivo entro quel determinato periodo che ci siamo imposti. In secondo luogo questa caratteristica ci aiuta anche a rispondere alla domanda dove siamo perché ci aiuta a capire a che punto siamo della nostra progressione per raggiungere il nostro obiettivo. Se infatti è passato il 70% del nostro tempo a disposizione ma a livello di progressione del nostro obiettivo siamo solo al 30% beh probabilmente c'è qualcosa che non va e quindi magari dobbiamo cambiare le nostre abitudini o magari semplicemente cambiare il nostro obiettivo e magari modificarlo secondo le nostre esigenze. E quindi in conclusione abbiamo qualche strumento in più per creare degli obiettivi efficaci per noi stessi. Ma è tutto qui? Beh in realtà no. Infatti come vi dicevo prima questo processo di creazione degli obiettivi e il suo monitoraggio che anche questo è una fase fondamentale monitorare i propri obiettivi sono tutti processi che avvengono non una sola volta all'anno ma sono dei processi continui e in costante evoluzione. Noi creiamo l'obiettivo e dobbiamo impegnarci a perseguirlo ma durante questo percorso può succedere qualsiasi cosa che può dipendere o non dipendere da noi. Infatti il contesto intorno a noi è in continua evoluzione e quando cambia il contesto cambia anche la risposta alla domanda dove siamo e se cambia questa risposta dovrà necessariamente cambiare la risposta alla domanda dove vogliamo andare e quindi adattare il nostro obiettivo in base alla situazione che dobbiamo affrontare. L'unica cosa più stupida che potete fare sarebbe quella di guardare il vostro obiettivo fallire senza reagire senza fare nulla. E attenzione cambiare obiettivi durante il nostro cammino non significa insuccesso bensì intelligenza. E come dice Dr. House saper reagire cambia le cose restare immobili lascia ogni cosa così com'è. Buon cambiamento a tutti. Buon cambiamento a tutti.